...una tematica sulle ristrutturazioni con, già lo vedete collegato, in diretta l'ingegner Domenico Cristiano dell'azienda Fermacell, buon pomeriggio Domenico. ...di soluzioni ma tutte a secco, è stato possibile riscontrare dei miglioramenti in termini su elementi acustici che hanno un po' svalordito anche noi, in questo caso in particolare insieme a un massetto di... Presidente, tra le due soluzioni quale consigli tu? Quale consiglio io? La seconda in assoluto però diciamo che è decisamente più invasiva perché andiamo a mangiarci dello...